Il Re Leone, Alice nel Paese delle Meraviglie, Migni e Topolino sono solo alcuni dei personaggi dei cartoni animati, amati dai più piccoli a cui si sono ispirati gli alunni del liceo artistico Juvara Manzoni, che hanno realizzato sei pannelli, collocati nel corridoio e nella sala giochi del reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Elia, su invito del direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono. Sviluppare la fantasia dei bambini e migliorare la qualità della permanenza in corsia, l'obiettivo dell'iniziativa, che ha preso il via già lo scorso anno, con la realizzazione di alcuni murales nelle stanze destinate alla degenza, ma anche di quelle del personale medico. Le classi che hanno partecipato a questa attività della realizzazione dei murales e anche dei pannelli decorativi sono state la terza B attuale di quest'anno e la quinta B che è uscita l'anno scorso. La quinta B ha realizzato i murales nelle varie stanze dove appunto i bambini vengono ricoverati, mentre i pannelli decorativi, che sono in tutto sei, sono stati realizzati qui a scuola dagli alunni della classe terza B. Tutto questo ha cercato appunto e ha reso più armonico l'ambiente. I bambini sicuramente in quel momento magari di sofferenza, osservando e quindi guardando questi murales o anche i pannelli, renderà sicuramente a loro quella settimana, quei giorni in ospedale più piacevole. Un incontro tra la realtà scolastica e ospedaliera che servirà a rendere meno traumatico il soggiorno dei piccoli degenti all'ospedale. Un reparto, quello di pediatria, che con il trasferimento nella nuova ala ha migliorato le condizioni alberghiere, rendendo più sereno l'ambiente ai bambini, ma anche ai genitori che li accudiscono. L'assistenza che deve essere erogata ai pazienti non è soltanto un'assistenza che riguarda la parte tecnica, cioè il paziente non è una malattia, il paziente è un soggetto che ha tutte le sue necessità accessorie che fanno parte proprio della dignità del soggetto. Questo avviene per i pazienti anziani, per i pazienti normali, ma a maggior ragione avviene per i bambini. Cioè un bambino che ha un problema di salute e va in ospedale certamente ha un trauma anche dal punto di vista psicologico e quindi andare a trovare un ambiente nell'ospedale che gli ricordi qualcosa di allegro, gli ricordi la sua stanzetta, gli ricordi i suoi cartoni animati quando li vede in televisione, sicuramente lo agevola nel rapporto con la struttura e quindi con la cura che viene attivata. In questo è importante anche l'altro aspetto, l'aspetto della società civile che contribuisce all'assistenza che noi diamo ai nostri pazienti, la partecipazione della scuola. Guardate che è un segno di altissima civiltà.